Da Belvedere siamo col Presidente Giuditto. Presidente, che partita è stata oggi? È stata una partita dura, equilibrata, ci sono stati due o tre episodi a sfavore sia nostro che della Gasperina perché purtroppo la situazione in seconda categoria è questa, non essendoci in guardaline. Però dai, è stata una bella partita, ci siamo divertiti e soprattutto sono felice per questo dibutto nella seconda categoria. Colgo l'occasione per fare un augurio agli amici della Gasperina perché sono una bella squadra e soprattutto delle brave persone. Noi quest'anno il nostro obiettivo è come quello dell'anno scorso, ossia divertirci, ma nello stesso tempo speriamo di salvarci al più presto e poi quello che verrà, verrà. L'importante è fare aggregazione, ci tengo a sottolineare che su 23 componenti della Rosa e 22 sono di Belvedere e quindi l'importante è creare aggregazione e stare insieme, crescere insieme. Grazie Presidente. Grazie a voi. Siamo con il Presidente Giuseppe Talotto del Gasperina. Presidente Talotto, come ha visto la sua squadra oggi, come prima partita di campionato? È stata innanzitutto una bella partita e corretta. Il Gasperina era ben organizzato, anche il Belvedere, un'ottima squadra. Diciamo che è stato un parigio giusto a mio avviso. Potevamo fare qualcosa in più, ma va bene, come prima partita va bene. Diciamo che il Gasperina ha sofferto dopo l'uscita di Palumbo, vero Presidente? Siamo stati un po' sfortunati sul Palumbo, che ha giocato solo 15 minuti, infatti un po' si è sentita la sua mancanza, ma abbiamo un bel gruppo, abbiamo un bel gruppo, andiamo avanti.